Le persone nel mio canale credono che tu non esista Fai un audio per dimostrare quanto sei dispiaciuto di questo Poi ovviamente modifico la voce e tutto Ma che non esiste? Qua giù allora che spiega Cioè che... Non so No, qua giù con me non esiste No, ma bu Qua giù non esiste Ma che problemi?